Il Brescia fa tre passi verso i play-off, tre come i gol che la formazione di Alessandro Calori mette a segno nel turno in frascettimanale con la Provercelli, tre come i successi consecutivi in trasferta. Scaglia e due volte Corvia regalano ai bianco-azzurri un successo che vale il sesto posto in classifica solitaria, l'ultimo disponibile per il treno play-off. Orfano di fantasie per le assenze di Saba e Sodinia, Alessandro Calori opte in avvio per un Brescia con il tridente nel 4-3-3, spazio a Caracciolo come punta centrale con Corvia e Scaglia attaccanti esterni. L'unica novità rispetto alle ultime uscite è il ritorno di LASIC titolare con Finazzi che si accomoda in panchina. Ed è proprio lo slovacco protagonista in negativo già al secondo minuto, da un suo appoggio sbagliato sulla tre quarti nasce il vantaggio della Provercelli. E' Massimiliano Scaglia, solo omonimo del Bresciano Luigi, ad approfittare dell'errore del giovane mediano. Recuperata palla, l'ex Verona trafiggia Arcari con un sinistro perfetto che si infila all'incrocio dei pali. La serata magica del Brescia comincia a prendere forma al nono quando André Caracciolo svetta più in alto di tutti su cross di Scaglia, strepitosa la risposta di Valentini. Nulla può l'estremo difensore sullo Scaglia Nostrano pochi minuti prima dell'intervallo. Il trequartista di Trenzano è bravo e fortunato a sfruttare a proprio favore un rimpallo in area di rigore per riportare il Brescia sul pareggio. Squadre a riposo sull'1-1, nella ripresa Calori cambia. Fuori l'ASIC per Finazzi, il Brescia entra in campo con rinnovata fiducia e motivazione. La voglia di vittoria si trasforma subito nel gol del 2-1. Andrea Caracciolo semina lo scompiglio in area di rigore. L'Airone si libera con un sombrero di Sini. Il pallonetto diviene un perfetto assist per Corvia che davvero rapinatore d'aria non si fa sfuggire l'occasione per gonfiare la rete. Ma quando tutto sembra girare per il verso giusto al quarto d'ora, giunge il secondo pareggio della Provercelli. E ragazzo a gelare gli entusiasmi del clan bresciano, l'ex cagliaritano, è abile a farci trovare pronto la ribattuta dopo una deviazione di Arcari su conclusione di Eusepi. Ma il cuore del Brescia formato trasferta è grande e cinque minuti più tardi Corvia trasforma in oro l'ennesimo pallone toccato della serata. Buda il pennello in aria un traversone su punizione, Gigi Scaglia di testa coglie in pieno la traversa. La palla danza qualche secondo in aria prima che Corvia la scaraventi di potenza in rete. Per l'attaccante è il dodicesimo centro stagionale, confermandosi così capocannoniere della squadra. E la freccia del sorpasso, gli ultimi istanti di gioco, sono sofferenza pura per la banda Calori, ma il risultato non cambia. Vince il Brescia, sesto posto consolidato.